eccolo qua questo è un altro progetto a metà il gilera 98 super sport del 1968 come vedete ci sono alcuni pezzi ancora da rimontare le forcelle anteriori perché erano troppo corrosi e ho voluto fare un riporto in cromo duro dove scorrono paroli e qui ora stavo per mettere l'olio vedete ecco allora nel carterino ci vanno un chilo e 6 di olio w50 eccolo andiamolo a versare piano piano ci vorrà tre secoli perché è estremamente denso come al solito secondo me è un'operazione magica lo vedete scorrere fino al carterino è un'operazione magica veramente è incredibile si si dà vita a un motorio qui c'è il coperchino delle punterie l'ho lasciato libero perché per vedere se arrivava l'olio ecco per l'appunto non viene vedete quello che ho fatto poi farò un filmato per agguagliarvi comunque era intero l'ho smontato tutto ovviamente ho sabbiato il telaio lo vedremo più avanti quando appunto restaurerò la scrambler ho dovuto rifare l'impianto elettrico perché era bruciato vedete qui sotto sella l'ho riverniciato vi farò vedere un po di tecniche qui sotto sella vedete ho riaggiunto tutta l'imbottitura ho sabbiato le molle riverniciate con vernice a due componenti eccolo l'appoggio qua così si vede meglio ho sostituito gli ammortizzatori posteriori perché erano scoppiati e ho smontato completamente le ruote i raggi e le ho rimontate ho zincato i raggi poi appunto sempre con il restauro della ducati lo vedremo ho rifatto il motore testata valvole vediamo se se si vede il movimento ecco ruoto l'albero vedete le valvoline che aprono e poi apre anche quella di scarico e c'è tutta la parte elettrica ancora da completare e via dato che il cerco perchio delle punterie è aperto prendiamo l'occasione per versare un po di olio direttamente sulle valvole sui lancieri di modo che quando al primo avviamento è già tutto diciamo correttamente lubrificato anche se qualche scalciata la daremo a vuoto per come al solito per fare entrare l'olio in tutte le tubazioni ecco oddio che soddisfazione l'olio su sulle componenti è una cosa micidiale micidiale mi dà una soddisfazione tra me come funziona la lubrificazione del 98 il 98 ha una pompa un pescatore sommerso con un filtrino lo vedete da quest'altra parte questo qui questo dado in oddone si sfila a un filtrino che comunica sotto la base della pompa che è questa qua è una pompa azionata da una vite senza fine sull'albero poi metterò una di tascaria quindi il percorso dell'olio e coppa dell'olio come vedete allentata e raffreddata poi l'olio passa attraverso la pompa c'è un iniettore che lo inietta nell'albero motore che cavo per lubrificare la testa della biella che è montata su una bronzina poi quest'olio viene sparato per forza centrifuga e va a lubrificare il la base del cilindro e il pistone il percorso prosegue prosegue perché qui c'è un tubettino in questo coperchio è un prigioniero della testata è forato vediamo se faccio un po di luce e scrive meglio da questo prigioniero qui fuoriesce l'olio che va a riempire questa cameretta lasciamo luce accesa questa cameretta qui e l'asta il perno dei bilancieri è cavo anche questo e va a lubrificare i bilancieri e le valvole vediamo se dando qualche pedalata si riesce a vedere l'olio che poi riesce come vi dicevo è importantissimo farlo arrivare in pressione poiché vediamo se riesco a fare le cose per me abbiamo due o tre pedalate ho tolto la candela perché l'emittore non deve avvenire ecco vedete l'olio comincia a fuoriuscire e quindi abbiamo effettuato questa operazione correttamente ecco qua vedete l'olio fuoriesce quindi siamo perfettamente è importante sistemare bene la guarnizione del coperchio delle punterie questa qua soprattutto in questo punto perché questa cameretta qui deve rimanere in pressione se fuoriesce l'olio da qualche parte anche l'albero motore non sarà lubrificato a dovere e si grippa la bronzina di biella che non va bene questo punto non ci resta che piangere no questa è un'altra cosa allora dobbiamo pulire la battuta della guarnizione con un po di diluente insomma alcol affinché quando andiamo a incollare la guarnizione io le incollo preferisco perché le guarnizioni devono devono stare lì dove si mettano e l'olio deve stare nel carter e non in terra al al pavimento ecco io sono di questo sono di questa filosofia qui quindi puliamo bene tutte le battute di questo e del coperchietto delle punterie che è questo qua vedete tutte le battute per benino perché andiamo a mettere la guarnizione che è questa qui vedete questo era il bordino che vi dicevo io allora andiamo a mettere un po di sigilla flange la pasta rossa e la lasciamo agli inespetti questo è un sigilla flange praticamente è tipo una pasta rossa ma è tipo più colla e lascia un sottile strato è molto più precisa lascia meno residuo vedete basta metterne proprio c'è il comodo applicatore basta metterne talmente poca non va non va toccata con le mani altrimenti si rischia di lasciare delle delle impurità diciamo se abbiamo un pochino di sporcizia attaccata alle mani si rischia che dopo la tenuta non sia quella desiderata allora andiamo a spargere su tutto il bordo non in maniera copiosa non tipo sigillo papale che quando lo chiudiamo sembra c'era l'acqua un sottile strato ecco andiamo a posare la guarnizione in questo modo ecco qua questo l'ho effettuato dopo aver fatto dopo aver registrato le punterie che la stessa procedura del del super alce o di o di altre moto come come abbiamo già visto comunque questo è un po' un'infarinatura tutte le fasi precise ve le farò vedere quando restauriamo la scrambler tra l'altro anche questo 98 è tipo una scrambler mi è piaciuto proprio per quello perché anche se è di cilindrata inferiore e e non diciamo tutte le elaborazioni che ho fatto ho sostituito il cilindro messo quello del 124 e eccetera 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 insomma non lo diciamo non è non è da fare ecco allora mettiamo il coperchio delle punterie come vedete al proprio posto e poi anche qui c'è qualcuno che mi criticherà però un pochino di frena filetti su tutte le viti anche questo perché siccome sono motori che hanno parecchie vibrazioni tendono ad allentarsi con il tempo e insomma le moto si meglio che stiano insieme ecco non che perdano i pezzi allora avvitiamole in croce ora questo qui non non importa fare un particolare tiraggio perché la testa è rotonda fosse stata allungata bisognava partire prima dai lati lunghi centralmente e poi dal lato corto per fare in modo che la guarnizione si stenda come si deve adesso con la 8 andiamo a fare tutti i tiraggi io andrei per gradi e non tirerei oltre al chilo ecco un po' assentita come si dice perché se stringiamo troppo la guarnizione rischia di rompersi e è un problema ecco basta pochino senza esagerare poi ci pensa la colla il calore e il rodaggio apriamo lo sportellino porta attrezzi laterale e cosa troviamo ovviamente sorpresa il mio solito cartellino con tutto il riassunto del tagliato ecco qua allora data oggi è 0 2 0 2 ok e abbiamo messo un w 50 ok